Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Il mio collega del Fatto Quotidiano qui da noi ha detto che sicuramente sono almeno 6 milioni di euro. Allora, noi dai bilanci che abbiamo letto noi, intanto lei in nove anni ha preso solamente per cariche sociali ricoperte in queste società 2 milioni e mezzo di euro ed è comunque una cifra importante. E l'intera montare del prestito che ha avuto dallo Stato, 2,7 più o meno. Soprattutto se pensi che si sono riconosciuti tra lei e Cagno Mazzo degli importanti emolumenti anche quando Key Group in un anno ha perso 7 milioni di euro. Insomma, premiarsi per una buona amministrazione... Capita spesso, diciamo, capita anche in altre aziende. Però vediamo, perché insomma la ministra si ritiene sotto attacco ma per difendere la scende in campo addirittura il ministro della difesa. Per l'appunto lo ha fatto a 8 e mezzo da Lili Gruber. Vediamone un passaggio. Molti servizi televisivi di alcune trasmissioni hanno un dettaglio di approfondimento che sarebbe impossibile con i mezzi del giornalismo ordinario. E quindi evidentemente hanno altri accessi, altri tipi di possibilità di informazioni che nessun giornalista ma neanche un ministro della Repubblica avrebbe. Normalmente si mettono insieme un po' di cose di questo tipo, che io chiamo dossier, si danno a qualcuno e si fanno partire i casi. Cioè quindi i servizi segreti... Avete ricevuto un dossier preconfezionato. I dossier li fanno...